Dopo questo il suo primo Natale alla guida del Comune di Napoli, qual è l'augurio che fa la città? Io faccio un grande augurio a Napoli di ritornare ad essere quello che è sempre stato, una grande città fatta da grandi persone, fatta di solidarietà, di amore, di passione e anche di coraggio. Napoli è qualcosa di importante per l'Italia e per il mondo e sono convinto che tutti insieme la riporteremo a quel posto che merita, che è quello di essere una città leader in Italia e in Europa.